La ritrovata solidarietà atlantica e occidentale legata alle drammatiche vicende dell'Ucraina hanno un po' sfumato i toni, ma il Parlamento europeo continua ad essere molto ma molto arrabbiato con il potente alleato statunitense per le rivelazioni sullo spionaggio della National Security Agency. Edward Snowden, la talpa che un anno fa ha fatto saltare il coperchio della pentola, ha inviato a Strasburgo un'ampia deposizione scritta nella quale descrive le diverse tecniche con cui l'intelligence americana si impossessa dei dati, delle opinioni, della vita di centinaia di milioni di cittadini europei. NSA e simili sono in Europa come un lupo in un gregge, potendo contare sulla divisione e la mancanza di coordinamento fra gli Stati membri. La relazione del socialista britannico Claude Moraes, che è stata approvata a larghissima maggioranza, propone rimedi di una certa durezza, a cominciare dall'interruzione dello scambio dei codici bancari, cavallo di Troia, per acquisire dati sensibili, fino alla minaccia di interrompere le trattative per l'accordo di partenariato commerciale. Il terrorismo, si è detto nell'Aula di Strasburgo, non può essere la scusa con la quale il Pentagono e il governo degli Stati Uniti violano i diritti fondamentali del popolo sovrano dell'Unione. Una linea di difesa della dignità europea che ha consensi diffusi in tutti gli schieramenti politici. Ai nostri microfoni l'europarlamentare di Forza Italia e del PPE, Crescenzio Rivellini. Spero inoltre che l'Europa abbia finalmente una sua autorevolezza e una sua dignità e nei confronti degli Stati Uniti, per lo scandalo delle informazioni rubate dagli Stati Uniti ai cittadini europei, tutta l'Europa, tutte le nazioni europee abbiano una stessa uguale forza nei confronti degli Stati Uniti per un'Europa dignitosa e per un'Europa autonoma.